Il dramma di una città prima che il dramma di tanti padri di famiglia, la crisi epocale che sta colpendo Gela dopo la chiusura della raffinazione e l'addio di Eni che per oltre 50 anni ha segnato nel bene e nel male il destino di questa città è stata al centro del focus della puntata di Agora andata in onda ieri sera su canale 10. I risultati finora impalpabili ottenuti con il protocollo d'intesa firmato il 6 novembre dello scorso anno al mese di Roma con il quale si è sancita una riconversione industriale che purtroppo rimasta finora tutta solo sulla carta. Di fatto e di concreto appunto c'è solo la disperazione di tanti padri di famiglia, di tanti lavoratori soprattutto quelli dell'indotto ridotti oramai alla fame. Qualcuno di loro è ancora foraggiato dagli ammortizzatori sociali che comunque scadranno il prossimo 31 dicembre altri addirittura alla canna del gas da mesi. Drammi appunto che qualche ex lavoratore dell'indotto è venuto a raccontare ieri sera ad Agora come quel padre di famiglia che ha ammesso di non avere potuto comprare libri scolastici al figlio di 16 anni e che per questo motivo è stato bocciato ed ha scelto di ritirarsi dalla scuola senza conseguire neppure il diploma. O come quell'altro padre che non avendo soldi ha costretto la figlia ad abbandonare gli studi universitari. Storie di ordinaria disperazione in una città che è stata massacrata da oltre 30 anni di malgoverno cittadino, amministrata da politici interessati solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale e forse persino incapaci di affrontare seriamente i problemi della città ma che per tanti anni sono stati regolarmente votati ed eletti da un popolo che colpevolmente si è fidato di questi personaggi bravi solo a prendere in giro la propria gente. Oggi Gela è ridotta allo stremo e non può essere un caso o solo frutto delle congiunture temporali. Anche altrove la crisi è crisi ma certo non si vivono i drammi che si stanno consumando in questa comunità troppo legata per oltre un cinquantennio al solo reddito che proveniva dalla presenza del cane a sei zampe che nel momento in cui unilateralmente ha deciso di smontare le tende da questo territorio ha lasciato con l'avallo della politica becera che ha governato Gela con una pezza davanti ed una dietro una intera città. Sono stati loro i lavoratori dell'indotto diventati nel frattempo purtroppo ex i protagonisti di Agorà. Un gruppo hanno partecipato alla nostra trasmissione da dietro le telecamere. Francesco Cacici invece è stato nel salotto televisivo del nostro rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico assieme all'avvocato Lucio Greco, leader del movimento politico in altra Gela, al vice sindaco Simone Siciliano e al segretario confederale della UIL Maurizio Castania. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo come sempre in prima serata con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano Gela e i gelesi.